Presentato questa mattina presso l'Università di Salerno è il nuovo servizio di collegamento intercampus. A partire da questo mese la navetta universitaria, identificata come linea 47, seguirà un percorso diverso e potenziato all'interno dei due poli universitari. Il nuovo percorso risponde meglio alle esigenze degli studenti e dell'utenza e consentirà di collegare i luoghi di servizio prevedendo anche fermate esterne. A parlarne il rettore magnifico Aurelio Tommasetti. Un servizio importante perché ovviamente abbiamo rifatto le pensiline, quindi grande situazione di accoglienza. Abbiamo soprattutto definito una mobilità ad orario fisso, per cui sono tre corse all'ora e c'è l'orario preciso che deve essere rispettato e che sarà poi ulteriormente implementato anche con un servizio che con display ti indica il minuto di arrivo. Questo è assolutamente importante perché c'è un'esigenza di mobilità anche all'interno dei campus, a condizione però che evidentemente questo servizio fosse potenziato così come lo è stato. Noi riteniamo che come abbiamo lavorato costruendo un terminal bus di Fisciano, un gioiello, come abbiamo lavorato costruendo un terminal bus di Baronissi che prepareremo nei prossimi mesi, che è stata giudicata la gara, quindi tra poco nel prossimo giro di sei mesi sarà pronto. Come abbiamo fatto per tutte, costruendo il tavolo tecnico con i sindaci per sollecitare la regione e la provincia a far arrivare i pullman, insomma stiamo lavorando per creare tutte quelle condizioni, per poter far giungere nel nostro campus e poter avere quelle esigenze di mobilità di cui ne abbiamo bisogno perché si dicono che siamo un'isola felice ma non possiamo essere isolati. Poi abbiamo sin dal primo momento consegnato alla regione il progetto elaborato da noi, senza costi di consulenza e di progettazione rispetto a quello che può essere il collegamento su ferro, già esistente, soltanto avvicinato rispetto al campus, sono tre anni e mezzo che aspettiamo. Noi siamo fiduciosi che anche questa soluzione si possa realizzare e potrebbe essere un ulteriore miglioramento delle condizioni per accessibilità rispetto al campus. Grazie.